Musica Musica Come si sente? Non so dove vivere Sembra caotica Però là fuori La immagine che c'è nella Italia Un paese bellissimo, la pizza, il sole Una volta ha fatto tutto questo Non ti ricordo che te ne devi andare Lo scorso Natale è scaduto il termine Della sentenza di morte contro di lei Pronunciata in prigione dal vos napoletano Carmine Schiavone Invece siamo ancora qui Ciclicamente c'è sempre qualcuno Che dà una notizia Sulla mia morte O sulla mia esecuzione Loro infatti Per colpirmi Aspettano semplicemente Che l'attenzione su di me E la mia vicenda cali Perché oggi quello che mi tiene in vita Non sono la protezione Che anzi sicuramente A cui io sono grato Ma è l'attenzione È la gente La mia vera scorta La mia vera protezione È il successo Generato dalle mie parole Loro Come tra l'altro Lo stesso Carmine Schiavone Ha dichiarato a un quotidiano Che si chiama il tempo Loro non è Loro aspettano E il mio destino ovviamente sarà questo Semplicemente che la mia parabola scenda E che in qualche modo L'attenzione intorno a me Intorno ai miei libri Intorno alla mia vicenda Scemi Tutto qui E come convive lei con questa paura? No ma per me non è una paura Io so benissimo che me la faranno pagare Cerco in qualche modo Anch'io di Capire Come, quando e perché Nel senso che loro non arrivano mai Né quando c'è tanta attenzione Come dicevo Su Su Chi li attacca Non arrivano mai Neanche quando Sanno per esempio Che la figura Che li attacca È forte Il meccanismo Sarà molto semplice E ovviamente Andrà esattamente così Credo Loro tenteranno In tutti i modi Di distruggere l'immagine Della persona che li attacca L'hanno fatto così con tutti Cerco di delegittimarti Dicono Che sei un cialtrone Un plagiatore Un Corrotto Un pagliaccio Loro per esempio Mi chiamano molto così Quando riescono a far passare Questa lettura dei fatti Cioè che tu non vali niente A quel punto Sei molto vulnerabile La camorra è in difficoltà? Magari No No Più che in difficoltà Si trova Sotto assedio mediatico Che è il motivo Per cui Mi odiano Nel senso che Spesso Anche magari All'estero Si chiedono Come sia possibile Che un libro Dia così fastidio A un'organizzazione Così potente In realtà Il libro Ha dato fastidio Perché è stato letto Da milioni di persone E perché ha innescato Un'attenzione mediatica Televisiva Radiofonica Della carta stampata Che loro prima Non avevano Tutto questo Ha generato Una risposta Dello Stato Maggiore Perché con l'attenzione Mediatica Non si può più Far finta di nulla Come si era fatto Sino a qualche anno fa E come si continua A fare In certe parti D'Italia Lei spiega Come parecchi Clan mafiose Aviano utilizzato Per decenni Il settore Delle costruzioni E l'immobiliare Per ripulire il denaro Qual è la situazione Adesso In piena crisi Ma è la stessa Nel senso che Oggi con la crisi Sono fortissimi Perché Come denunciato Dall'ONU Tra l'altro Quindi questa Non è una mia ipotesi Come denunciato Dall'ONU Precisamente L'ufficio studi Sul narcotraffico Oggi Le grandi organizzazioni Mafiose Stanno entrando Nelle banche Internazionali Che come dicevo Prima Non avendo liquidità Accettano La possibilità Di ricevere Una liquidità sporca Pur di resistere Alla crisi Questa è una cosa Gravissima Non semplicemente Perché danaro sporco Entra nelle banche Europee Questo in realtà Succede sempre Ma Ne entra così tanto Che in fase di crisi Che questo denaro Determinerà La politica Finanziare Di queste banche In tempo di ripresa Cioè loro Oggi investono Nella crisi Perché tra cinque anni Tra tre anni Insomma Quando passerà la crisi Loro orienteranno Le politiche delle banche Chi finanziare Quale imprenditore Proteggere Quindi il problema È che oggi Stiamo perdendo il futuro Cioè oggi La mafia Le mafie Stanno ipotecando Il futuro Di questo continente Cosa dovrebbe succedere Per rivoltare Questa situazione Immaginando che succedesse L'improvabile Cosa potrebbe far esplodere Il sistema La camorra In realtà Con questa crisi Oggi Credo che I tempi Per attaccare Davvero Le organizzazioni criminali Siano diventati lunghissimi E tutto sommato Il paese Non vuole Il paese Pensa altro Il paese Pensa in questo momento Appunto Al lavoro precario Alla mancanza di pensioni Alla questione Delle intercettazioni Crede tutto sommato Che il problema Mafioso Sia Uno dei problemi Non il problema Fino a che punto Questi poteri criminali Hanno danneggiato E continuano A danneggiare L'Italia Oggi Io credo Che i poteri criminali Stiano danneggiando Maggiormente l'Europa Nel senso che In Italia I danni fatti All'economia Sono avvenuti Fortemente Già negli anni 90 Oggi L'economia tedesca Inglese Spagnola Per esempio È profondamente Infettata Dalle organizzazioni criminali Senza che I governi Questi paesi Ne diano Comunicazione Ai cittadini Oggi L'Europa Sta pagando Secondo me Il prezzo più alto Della presenza Dell'economia mafiosa E lo percepirà Socialmente Quando sarà Troppo tardi Come in Italia Le hanno chiesto Tante volte Se lo scriverebbe Di nuovo Il libro Comorra Dopo aver sperimentato Le conseguenze Del suo successo Lei ha detto All'inizio Che non aveva duvi Poi si è sentito Prigioniero Del suo libro Da un lato Mi sento di dire Che lo riscriverei Perché è stato Talmente importante Anche come fenomeno Editoriale Intendo dire Tante persone Si sono avvicinate Alla lettura Persone non entrirebbero Mai in libreria L'hanno comprato O persone che non Leggerebbero mai Queste storie Si sono avvicinate A queste storie Però sul piano privato Io non lo riscriverei mai Cioè sul piano privato Parlo della mia vita Quindi al di là Del libro È tutto talmente Peggiorato È tutto talmente Come dire Esploso Che non Non avrei Dubbi su questo Cioè non lo riscriverei Se dovesse essere Soltanto un atto privato mio Io ormai l'odio Non ne posso più Cioè Non ho alcuna simpatia Per il mio libro Insomma Come vede Il suo futuro? Ce la fa Ad avere Dei progetti personali Al di là Di questa fuga forzata? Ma Sì Nel senso che Tento di avere Dei progetti Una volta Un vecchio giornalista Italiano Che è Enzo Biaggi Mi disse Che fu il primo A intervistarmi Mi disse Il paese Non ti perdonerà mai Perché Non permette L'Italia Che si raccontino Queste cose D'altronde Quando è uscito Il film C'è stato Un coro enorme Di attacchi Dicendo che Non si dovevano Parlare di queste cose Posse pare ridicolo Da fuori Da fuori Un americano Uno spagnolo Non è pensabile Un commento del genere Ma invece Fa parte Profondamente Della cultura Intellettuale Spesso Italiana Che si parlino Delle colline Toscane Della simpatia Degli italiani Degli italiani Brava gente O magari Della politica O magari anche Parlarne male Ma Tra di noi Quindi in realtà Il mio futuro Non lo vedo Non riesco neanche A vederlo Neanche a immaginarlo Grazie mille Per questa intervista Grazie È stato un piacere Grazie mille 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 Grazie a tutti.